È un vero e proprio scatto, quello messo a segno dall'economia britannica nel primo trimestre. Il PIL è cresciuto del 3,1% rispetto all'anno precedente e dello 0,8% in confronto agli ultimi tre mesi del 2013. Buone notizie per il governo di David Cameron, in vista delle elezioni del 2015, anche se fanno notare gli analisti, l'economia non ha ancora recuperato il terreno perso nella crisi del 2008, colpa dei danni incassati dall'imponente settore finanziario di Londra, ma secondo i critici anche dei tagli alla spesa. A crescere tra gennaio e marzo sono stati tutti i principali settori, servizi, industria e costruzioni.